Domanda, perché dite che nella condizione umana la vita non ci appare per come è? Perché nella condizione umana la vita vi appare rovesciata rispetto a come in realtà è? Ma perché? Perché voi vedete la vita come esterna a voi, mentre nella realtà la vita è proiettata dalla vostra coscienza in quella che voi chiamate illusoriamente realtà. Allora la vita per come la viviamo non serve a niente. Invece la vita umana è il massimo dono che voi potete avere per trascendervi, perché è sì un'illusione, ma un'illusione che vi evolve. Ma perché è un'illusione? Perché voi vivete ancora Dio e per superare l'Io che è la mente dovete vivere l'illusione dell'Io. Allora la vita umana è il massimo dono. Allora la vita umana è il massimo dono.